Oggi partiamo da Malga Lavassè che si trova sopra Rummo in Val di Non e percorrendo il sentiero 134 iniziamo la nostra escursione con varie tappe, una fra tutte quella bellissima al lago Poinella dove vive un'unica specie ittica, il salmerino alpino. Passando per il passo Siromba ci incamminiamo verso la più alta vetta delle Maddalene orientali, è la Cima Stubele che con i suoi 2671 metri di altitudine è anche la terza cima sul podio delle più alte di tutte le Maddalene. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.